Completa all'ingresso anche Spidek, si va agli ordini dello starter partiti. Per un attimo in vantaggio Spidek, poi all'interno progredisce California Sweet, allargo anche Suglas. Con Suglas che all'attacco della prima piegata assume un'iniziativa nei confronti di California Sweet, Spidek, Anna Greta, quindi Matrioska e Mareks in coda. Il gruppetto già allungato, si appresta ad entrare in addirittura per il passaggio, tira un po' Suglas in avanti. California Sweet che adesso galoppa all'esterno della battistrada. Terza posizione per Spidek che ha all'esterno Anna Greta, quindi Matrioska e Mareks. Si è ricompattato adesso il gruppetto, i sei cavalli che transitano adesso sul traguardo, si va ad affrontare la seconda piegata. Si va per coppie con Suglas e California Sweet, quindi Spidek, Anna Greta, Matrioska e Mareks. In tale ordine si va ad affrontare anche il completamento della seconda piegata, ingresso sull'addirittura di fronte. Due a due come a scuola, con Suglas in vantaggio all'esterno California Sweet, quindi Spidek e Anna Greta. Matrioska e Mareks. Nessuno che per il momento fa la prima mossa, con Suglas che si mantiene in vantaggio nei confronti di California Sweet. Poi Spidek in corda adesso richiesto, corsia esterna per Anna Greta, quindi in corda è la grigia Matrioska che è all'esterno Mareks. Ancora non succede niente, Suglas che in progressione prova ad accelerare. California Sweet adesso è montata per tenere botta con la leader, terza corsia si prepara Anna Greta, quindi in rincorsa dalle retrovie e anche Mareks. Ingresso indirittura con Suglas che si presenta in vantaggio, California Sweet ancora al suo esterno. Poi Anna Greta, Mareks, Matrioska, Spidek che adesso è scivolata in coda con Suglas per il momento ancora in leggero vantaggio nei confronti di California Sweet che l'attacca. Poi c'è la progressione di Anna Greta, Anna Greta che sta passando in vantaggio, c'è un contatto anche con California Sweet. Anna Greta che però è passata nei confronti di Mareks che finisce forte all'esterno nel finale, vince Anna Greta davanti a Mareks e California Sweet. 4-2-3, l'ordine di arrivo ufficioso per quanto riguarda questa quarta corsa della serata. Successo che va ad Anna Greta, numero 4 dello schieramento, i colori di Maurizio Bianchi, il training di David Furi, Mario Sanna in sella, la quota 3-0-2. Grazie a tutti.